Il Presidente Carmelo Ceselli ha convocato la nuova seduta consigliare della città di Tolentino. Il Consiglio Comunale si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 18.30 all'auditorium della Biblioteca Filelfica. Questi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Comunicazioni del Sindaco e o del Presidente del Consiglio Comunale. Interrogazione di Corvatta, Cesini e Quercetti sui lavori San Catervo. Ratifica aggiornamento numero 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e del relativo elenco annuale. Approvazione definitiva alla variante parziale al piano regolatore generale area incontrada acqua salata. La cittadinanza, come sempre, è invitata ad assistere alla seduta consigliare.